Industria italiana, autobus e lavoratori in assemblea per discutere del futuro. Cassa integrazione fino al 24 settembre 2017. Nel frattempo, il 20 e 21 dicembre, l'azienda provvederà alla formazione professionale di 150 dipendenti. In due giorni si divideranno i corsi per 50 operai alla volta, mentre i prossimi 144 lavoratori saranno convocati per il 24 e 25 gennaio. In un clima certamente più sereno emergono comunque alcune perplessità. FIOM, Wilm e FALMS ne parlano ai microfoni di Canale 58. Alcuni dubbi sono stati fugati, nel senso che comunque l'azienda sta continuando con i suoi investimenti, presenterà al comune di Flumeri la cosiddetta scia per cominciare gli investimenti. I primi investimenti saranno sulla prima struttura coperta di questo grande stabilimento, cioè quello di 12 mila metri quadrati, per cominciare a fare i primi pezzi per i pulmi che dovranno essere fatti a Bologna. Certo abbiamo anche fatto dei quesiti perché noi sappiamo che Bologna comunque da gennaio parte con una cassa integrazione. La direzione aziendale ci dice che una parte dei lavoratori e lavoratrici di Bologna andranno in cassa e quindi una parte del lavoro che verrà fatto qui presso lo stabilimento dell'AIA sarà comunque per Bologna. I noti da sciogliere dipendono dal sostegno che il governo vorrà continuare a dare a questo grande progetto. Del Rosso lo ha evidenziato al tavolo, ha detto che noi saremo pronti qui a produrre per il mese di settembre, ma si aspetta che tutte le risorse messe a disposizione da parte del governo per il trasporto pubblico per i prossimi tre anni possano essere mantenute e che quando si faranno le gare non si metteranno quei vingoli che finora hanno impedito all'unica industria che produce autobus Natalia di non vincerle, ma che come fa la Francia con la Fiat si possano invece aiutare le aziende che producono sul territorio nazionale e quindi portarci a casa quella fetta di lavoro che per noi significa produrre 300-350 autobus all'anno per far lavorare tutte le 300 unità oggi in casa integrazione. Si dice che per settembre, secondo le dichiarazioni del dottor Del Rosso, dovrebbero rientrare tutti i 293 lavoratori. Speriamo, voglio sperare che questo possa avverarsi anche se restano delle riserve. L'augurio è di tutto il territorio e diciamo a tante che vogliono attualmente fare anche domande di occupazione per i figli eccetera che per adesso non ci sono le condizioni, non credo che ci saranno assunzioni nel prossimo futuro e che quindi non si lasciasse il territorio tutto prendere dai entusialmi che non ci sono.